Siamo con Fabio Bovani, coach della TUM Perugia, a 10 partite di campionato, 7 vittorie e 3 sconfitte per un quinto posto in classifica. Un bilancio di questa prima parte di stagione? Diciamo che possiamo essere non soddisfatti ma ripagati da quello che stiamo facendo. In questo momento abbiamo sofferto per gran parte della stagione degli infortuni importanti, abbiamo dovuto riquadrare più spesso dei centri. Ci siamo fatti trovare pronti in molte occasioni, meno pronte in altre occasioni che erano fondamentali. I scontri diretti come noi definiamo tali con quei nostri rivali che sono Bologna, Ravenna, Ravenna, fino adesso sono stati ad appannaggio delle altre. Ma tutti gli altri incontri sono stati ad appannaggio nostro con risultati abbastanza netti. Quindi vuol dire che siamo pronti ad affrontare un tipo di campionato ma non maturi ancora per affrontarne un altro. Quindi lavoriamo bene con quelle che non sono le prime della classe, lavoriamo ancora meno bene a fatica per i nostri equilibri interni con quelle che sono le prime della classe.